Dopo dieci anni la VL torna ai playoff e suona quanto mai riduttivo chiamarla missione compiuta, perché Coach Banchi aveva già abbondantemente ormeggiato in porto la barca pesarese con una strepitosa salvezza raggiunta con anticipo e con prestazioni e risultati che avevano riportato in auge la passione pesarese dei bei tempi tornando a riempire la Vitri Frigo Arena. Il raggiungimento dei playoff sono invece la ciliegina su una torta che aveva già gratificato del fine compagni ma che non ne aveva saziato del tutto l'appetito. Sono arrivati i playoff perché è arrivata nell'ultimo atto di Napoli la quattordicesima vittoria stagionale che significa 28 punti e ottavo posto a pari merito con Trieste ma valorato da una miglior dote nella classifica Vulsa. Pesaro dunque si regala il playoff con la prima della classe Virtus Segafredo Bologna, un regalo recapitato da un'altra vittoria incredibile, quella contrassegnata dall'84-85 dopo i tempi supplementari arrivati in seguito al 71 pari alla sirena del quarto quarto. A consegnare vittoria e quei playoff che mancavano dal 2012 un canestro di lamba 6 secondi dal termine. Per banchi conquistare i playoff a Napoli rappresenta la chiusura del cerchio con il punto più alto dopo che proprio nell'andata con Napoli la VL aveva cominciato la sua risalita. Sono arrivato in questa squadra ereditando una posizione scomoda. Chi di voi ha visto la nostra partita di andata? La nostra partita di andata probabilmente ricorderà in quella circostanza la larga vittoria di Napoli. Abbiamo toccato in quell'occasione forse uno dei momenti più bassi della nostra stagione dove era difficile pensare di poter risollevare questa squadra invece forse è stata quella la pietra angolare sulla quale abbiamo costruito la nostra stagione. Una partita dove Napoli ci dominò per 40 minuti schiacciandoci sotto il profilo tecnico, atletico e forse la nostra storia è iniziata lì quando alla mattina successiva ci siamo trovati in palestra e abbiamo iniziato a allenarci con un'altra rabbia, con un'altra determinazione. Ed ora i playoff. Il prossimo weekend la prima delle due gare consecutive a Bologna, dopodiché la gara 3 a Pesero per un quarto di finale al meglio delle cinque partite.